Ciao a tutti gli spettatori di Gossip in the News, vi invitiamo a diventare parte della nostra comunità iscrivendovi al canale. Il vostro sostegno è fondamentale per noi. Oggi è con grande tristezza che dobbiamo parlare della scomparsa di un'icona della televisione e del cinema, avvenuta nella città di Roma. All'età di 51 anni, ci ha lasciati una figura emblematica, un uomo che per più di tre decenni ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della fiction televisiva, sceneggiatore, romanziere e documentarista. La notizia del suo decesso è stata resa nota dalla famiglia, che ha voluto sottolineare il suo straordinario contributo, in particolare la sua capacità di trasporre la commedia all'italiana nella fiction televisiva. Nato e cresciuto nella capitale, è stato discepolo del grande furio Scarpelli. Durante la sua prolifica carriera, ha esplorato svariati aspetti dell'arte, integrando la scrittura con il cinema. Tra le sue opere più significative, spiccano Il figlio di Brancaleone. Scritto insieme a Giacomo Scarpelli è considerato come il terzo capitolo ideale della saga iniziata da Mario Monicelli, e il romanzo L'ultima morte di Peppe Bortone, che dipinge un affresco dell'industria cinematografica italiana degli anni Ottanta, oltre al film del 2009 I mostri Oggi. I funerali si svolgeranno presso il cimitero di Cico della piramide a Roma. Inoltre, è previsto un momento commemorativo presso la Casa del Cinema di Villa Borghese. Parlando di Marco Tiberi, ci uniamo al dolore della sua famiglia, porgendo le nostre più sentite condoglianze. Per restare sempre informati su ulteriori aggiornamenti, non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie di cuore per il vostro supporto.